L'autunno entra nel vivo aumentando il suo carico di fogliame caduto sui manti stradali con annessi rischi di caditoi otturate. Comune e Marche Multiservizi decidono allora di apparecchiare un'operazione di pulizia straordinaria nelle vie della zona mare dal 23 di ottobre fino a fine dicembre in ogni giorno feriale dalle 12 alle 18. Abbiamo deciso di fare questa sperimentazione che potrà creare qualche disagio ma il nostro obiettivo è avere ovviamente la città più pulita. Noi come Comune e Marche Multiservizi cerchiamo di fare la nostra parte e l'occasione anche per sensibilizzare i cittadini rispetto all'educazione civica e magari evitare di buttare cicca a terra e pezzi di carta che poi ovviamente gli operatori sono tenuti a raccogliere. Però noi come comunità dovremmo sporcare il meno possibile. Stiamo facendo molto, non facciamo tutto, potremo fare sempre meglio è sicuro, però abbiamo bisogno della collaborazione di tutti. Questa sperimentazione che andiamo a proporre sulla zona mare coprirà l'arco dal lunedì al venerdì 5 giorni della settimana in piccoli tratti di Viale Trieste, di Viale Trento, di Viale Cesare Battisti. Diciamo da Viale della Repubblica verso nord, dal Viale della Repubblica verso sud con un calendario prestabilito. Questo ci permetterà innanzitutto di fare una pulizia più profonda dei marciapiedi delle strade e anche di pulire le caritoie che sono in questi periodi di piogge un po' pazze. Il tema è che i cittadini in qualche modo affrontano più spesso, ci dicono le caritoie che sono da pulire, si allaga qui, si allaga di là. Le caritoie noi proviamo a pulirle, per pulire ovviamente non ci devono essere le macchine parcheggiate sopra. Abbiamo fatto questo lavoro in via Cecchi, ci abbiamo impiegato qualche ora in più perché c'erano ancora troppe macchine parcheggiate. Questa volta avvisiamo con l'argo anticipo, cerchiamo di farlo informando o utilizzando tutti i mezzi di comunicazione possibile. Ovviamente se ci sono le macchine parcheggiate sopra la polizia locale dovrà fare il suo lavoro. Quindi invitiamo i cittadini a rispettare gli orari, a non lasciare la macchina dalle 12 alle 18 parcheggiate nelle zone di intervento. E se questo modo di intervenire sulla pulizia delle strade, di marciapiede, delle caditoie funziona, pensiamo di svilupparlo anche in altre parti della città. Il calendario delle operazioni di pulizia con annessi di vieti di sosta prevede dunque che si interverrà ogni lunedì in Viale Trento, nel tratto compreso fra Viale della Repubblica e Viale Napoli, ogni martedì in Viale Battisti, nel tratto compreso fra Viale della Repubblica e Viale Napoli, ogni mercoledì in Viale Trieste, nel tratto fra Viale della Repubblica e Largo Beato Liviero, ogni giovedì in Viale Trento, nel tratto compreso tra Viale della Repubblica e Viale Rosselli e in tutto Viale Pagano, e infine ogni venerdì in Viale Battisti, nel tratto compreso tra Viale della Repubblica e Viale Rosselli e in tutta Via Romagnosi. Il tipo di intervento consisterà, avendo la sede stradale completamente libera, di poter fare in maniera efficace ed efficiente una pulizia approfondita. Quindi le macchine non ci saranno, riusciremo a pulire quegli spazi che normalmente con il soffiatore non riusciamo a pulire, ovvero lo spazio che c'è tra il marciapiede e il pneumatico dell'automobile, e questo sarà fatto settimanalmente in maniera da prevenire il più possibile l'ostruzione delle catidoie in una zona come quella del centro mare abbastanza critica. Come avete già sentito, saranno due mesi di sperimentazione che se avranno il successo che pensiamo e che tutti si dovrebbero auspicare, potranno essere estese anche ad altre zone della città.